Il cardine di questa innovazione tecnologica nel trattamento delle malattie infiammatorie delle prime vie aeree può essere rappresentato fondamentalmente da due capitoli, che sono l'applicazione delle nuove radiofrequenze di terza generazione per il trattamento delle delicate mucose respiratorie e l'introduzione dei palloncini, i cosiddetti balloon, di derivazione emodinamica con cui siamo in grado ad altissime pressioni focalizzate in punti molto specifici delle vie respiratorie di ripristinare una buona funzione, una buona ventilazione delle vie aeree di adulti e bambini. Veniamo un pochino a parlare in dettaglio di queste radiofrequenze, c'è una grande confusione, tante volte un po' di disinformazione su queste nuove radiofrequenze, in quanto si confondono le prime generazioni di radiofrequenze che erano molto simili all'elettrochirurgia, quindi molto dannose, traumatiche per la mucosa del paziente, ma soprattutto erano gravate dalla principale complicanza della necessaria ripetizione dei trattamenti nel corso della vita del paziente per garantire una buona tenuta nel tempo. Oggi queste prime generazioni non vengono più adoperate, non dovrebbero essere più adoperate da nessuno dei sanitari, in quanto la terza generazione, pensiamo ad esempio alla risonanza quantica molecolare piuttosto che alla radiofrequenza plasma, sono in grado con una singola applicazione di questa radioonda all'interno del naso del nostro paziente di ridurre i volumi e risolvere in maniera permanente la condizione ostruttiva respiratoria senza necessità di ripetere altre sedute nel corso degli anni o della vita del paziente. Quindi una singola zona, area trattata a livello della via respiratoria non avrà più necessità di essere ritoccata nel corso degli anni e il risultato è duraturo e molto efficace. Può capitare nel corso degli anni naturalmente che il paziente sviluppi altri tipi di malattie nella cavità nasale e nella via aerea, in altre zone non precedentemente trattate dalle radiofrequenze di terza generazione. In questo caso nulla ci vieta di eseguire nuove endoscopie operative in altre sedi, ma sempre osserveremo la buona tenuta e la stabilità dei risultati ottenuti nel tempo delle zone trattate in precedenza. Questo a patto che si utilizzino tecnologie aggiornate e ci si rivolga ad equip e a centri molto qualificati, in quanto nella filiera della efficacia di queste terapie mininvasive è molto importante rispettare le procedure e quindi non si può sottovalutare alcuno degli aspetti terapeutici di questi approcci perché non è il singolo strumento a eseguire naturalmente l'intervento, ma soprattutto a essere indicato in quale siedi essere portato. Quindi l'importanza avere un'esperienza tale per decidere quali sono le zone da trattare, ma soprattutto l'importanza di avere a disposizione tutte le tecnologie, tutti i manipoli, tutte le forme, i diametri, le lunghezze di questi erogatori di radiofrequenze per non trascurare nessuno dei compartimenti patologici, perché questo porterebbe a un'insoddisfazione, a un insuccesso della terapia. Insuccesso che in realtà è dovuto ad un'errata diagnosi, ad un'errata indicazione e applicazione della radioonda nel segmento dove serve. Naturalmente la radiofrequenza, se applicata in maniera inappropriata, può essere poco o per nulla efficace. Il secondo capitolo è la chirurgia dilatativa con palloncino. Anche queste procedure endoscopiche, ancora minimamente invasive, ancora massimamente invasive, come le radiofrequenze a bassa temperatura, temperatura corporea, non danneggiano la mucosa, anzi sono in grado di recuperarla nella piena funzione e rigenerare la sottomucosa, un pochino come un peeling che cambiasse la pelle di un viso. La stessa cosa potrebbe avvenire al livello delle mucose interne. Con quello stesso tipo di delicatezza e di approccio rigenerativo, il palloncino di derivazione emodinamica è in grado nelle aree chiave o struttive di comunicazione tra naso e seni paranasali, tra naso e tuba di ustachio, vedremo quante patologie del naso si possono riverberare nell'orecchio con accumulo di catarro anche a livello di questa cavità che solo apparentemente sembra così lontana dal naso, in realtà è strettamente interconnessa ed è anche rivestita in parte della stessa mucosa respiratoria nasale, quindi otiti, catarrali e naso, vedremo nelle prossime clip, sono molto interconnesse come tipo di patologia. Ma tornando ai palloncini, i palloncini con questa specificità e questa altissima tecnologia nella loro costituzione, nella loro costruzione, sono in grado di fornire dilatazioni a 12 atmosfere recuperando, ripristinando un corretto drenaggio e rispettando la fisiologia del seno, quindi non sono più trattamenti chirurgici invasivi che svuotano i seni, che li grattano, che li abbattono con martelli, fresi, osse, fresi ossee che avevano il grosso svantaggio di essere gravati da recidive quasi nella quasi totalità dei casi, oltre che ad essere molto dolorosi e molto invasivi, ma soprattutto sono trattamenti che rispettano la fisiologia, sono in grado di far recuperare alle ciglia nasali che muovono il muco dall'interno dei seni paranasali all'esterno dei seni, quindi buttandolo all'interno del naso per venire poi depurate e drenate, sono in grado di recuperare una buona fisiologia con nessun impatto traumatico, sono interventi indolori, senza sanguinamento e soprattutto con grande rispetto della fisiologia e della funzione del naso di adulti e bambini.